quello che che vedrete quest'anno questa prima edizione è letteralmente un episodio pilota di questo workshop che da un lato è anche una cosa elettrizzante e affascinante perché vuol dire che sarete in qualche modo voi a darci le linee guida per costruire poi il futuro di questa sezione cercate di captare e assorbire tutto quello che avviene qui dentro perché c'è una possibilità di incontrare identità nuove di cercarne delle altre di rafforzare quella che già avete se non fosse stato per il gifoni io sarei un ingegnere perché sto per laurearmi in scienze della comunicazione ho fatto la mia penultima da oggi edizione del gifoni sono andata a fare il test perché ho detto no non è la mia strada quindi grazie grazie a te prima chiedevano ai ragazzi cosa ti piacerebbe fare da grande allora tu sentivi poliziotto l'astronauta adesso youtuber il bello rispetto allo smartphone è che con la macchina fotografica anche quando lavorate in manuale siete voi gli attori gli scrittori di questo libro fisico di questo libro visivo che state mettendo magari in in rete io ci puoi il bimbo si va grazie grazie grazie